Siamo iniziati, ho lavorato con un'idea di dialoghi open, per più di 35 anni. L'ultimo luogo in cui ho lavorato è stato come professore di psicoterapia all'Università di Ivascula in Finlandia, per 20 anni. Prima di ciò, per circa 18 anni, ho fatto parte di un team nella Finlandia del Nord, in Lapponia, in un piccolo ospedale psichiatrico. E questo sistema ha cercato di riorganizzare l'intero sistema di cura in quella zona. Cercando di trovare il modo migliore per lavorare con le famiglie in situazioni di crisi. Trovare un sistema che permette di lavorare immediatamente nella crisi e di lavorare come gruppo. E' stata la scoperta di un modo davvero nuovo di lavorare. E siamo stati praticamente costretti dall'inizio a valutare le nostre pratiche, perché ci sembrava di aver ottenuto dei successi, ma era una situazione anche un po' confusa. Anche se noi l'abbiamo utilizzato prevalentemente per situazioni di psicosi, l'approccio del dialogo aperto non è specifico per le psicosi, ma si può utilizzare per qualsiasi tipo di problema. La maggior parte degli studi che sono stati fatti riguarda i primi casi di psicosi che sono accaduti nel territorio di nostra competenza, che è la Lapponia occidentale. Ci sono stati tre cohorti di pazienti, oggetti di tre studi diversi. La prima è stata i pazienti iniziati a seguire tra il 92 e il 93. La seconda pazienti all'esordio iniziati a seguire tra il 94 e il 97. E poi abbiamo valutato cos'è successo ai pazienti arruolati tra il 2003 e il 2005. Abbiamo avuto 108 pazienti con una psicosi all'esordio in questi studi. Abbiamo visto che ci sono dei risultati di esito interessanti, adesso abbiamo anche degli esiti dopo 20 anni. In questo articolo, che credo sia praticamente illegibile, vista la dimensione dei caratteri che ho lasciato, che è comunque pubblicato su Psychiatric Research, c'è la comparazione tra i pazienti seguiti col dialogo aperto, DIA, in Lapponia e i pazienti seguiti col trattamento abituale, TAU, lo sapete, treatment as usual, nella Finlandia. E con grande sorpresa abbiamo visto che pare che ci sia una notevole differenza tra gli esiti e i risultati di questi due tipi di trattamento. Il primo dato è sulla mortalità legata a malattie, che è molto più alta nel gruppo seguito col trattamento abituale rispetto al gruppo del dialogo aperto. Stesso dato diverso, più alto per più di 30 giorni di ospedalizzazione nell'anno, molto più alto nel gruppo del treatment as usual. Questo numero è incorrecto, è un dato ancora più alto, mi aveva detto di correggerlo, non ho salvato la diapositiva. Non è 37, ma è 94%. Il 94% dei pazienti seguiti col trattamento abituale hanno avuto più di 30 giorni di ricovero in un anno. Il 18% dei pazienti seguiti col dialogo aperto hanno avuto più di 30 giorni di ricovero in un anno. 20 anni dopo l'esordio, la metà dei pazienti trattati con il trattamento abituale era ancora in cura. Il 28% di quelli seguiti col dialogo aperto, invece. La differenza tra le percentuali di chi era in trattamento neurolettico in un gruppo e nell'altro è 81% in un gruppo e 36% nell'altro. E questo forse è il dato che ci ha sorpreso di più, la differenza percentuale tra le persone nel gruppo del trattamento abituale che avevano una pensione di invalidità, che era praticamente il doppio rispetto a quella del dialogo aperto. In realtà questo è contro alcune idee di ricerca lungo termine che conosciamo in psichiatria. Questa è una delle non molte ricerche sul lungo periodo, a lungo termine, che ci sono in psichiatria. La durata media di un follow-up è sui cinque anni. Il dato importante che emerge da questa ricerca è che a vent'anni dall'esordio della psicosi ci sono delle conseguenze nella vita delle persone, conseguenze importanti. E questo è quello che credo sia qualcosa molto speciale di questo approccio dialogico o di dialogo aperto. Questa non ho fatto in tempo a tradurla. È una lettera ricevuta da un collega spagnolo che ha scritto a Jacco. che dopo un seminario sul dialogo aperto ha incominciato a utilizzarlo nel suo luogo di lavoro. E quando hanno incominciato a organizzare dei team, il dialogo aperto viene applicato da gruppi di operatori, il minimo due. Che era una cosa diversa da quello che succedeva nel loro tradizionale modo di lavorare. dove c'erano i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali. Qualche volta, non raramente, uno psicologo che faceva interventi di psicoterapia individuale. E questo psichiatra scrive a Jacco e gli dice ci abbiamo provato e i risultati sono stati assolutamente sorprendenti. Ha parlato in questa lettera della situazione di una signora che ha interrotto nel giro di quattro mesi l'uso di farmaci. con la quale è stato fatto un lavoro di incontri di trattamento prolungato con la famiglia, alcune volte coinvolgendo anche altre persone, amici. Questa signora ha trovato un nuovo lavoro, ha preso la patente e si è iscritta all'università. E questo psichiatra ha detto di solito non succede così alle persone che hanno esperienze psicotiche di cui ci occupiamo. Alcuni concetti che riguardano l'idea di dialogo in generale. Guardate, io non penso mica, non sto assolutamente dicendo che c'è una specie di intervento miracoloso che abbiamo scoperto. Penso che sia più che altro prendere in esame alcune idee di base su che cos'è la vita umana e sull'importanza del dialogo. Noi esseri umani diventiamo quello che siamo perché siamo coinvolti in delle relazioni con altre persone in cui ci esprimiamo e ci viene data una risposta. E se questo accade anche nella nostra pratica professionale e aiutiamo i nostri pazienti, facciamo sì che i nostri pazienti possano avere accesso alle loro risorse interiori. Che ci sono, ci sono risorse in loro, ci sono risorse nelle relazioni all'interno della famiglia, nelle relazioni nella loro rete sociale. E allora incominciamo forse a pensare a un'idea diversa di cosa sono i problemi di salute mentale. E quindi sulla base dei risultati degli studi di follow-up che abbiamo visto prima abbiamo iniziato a pensare in modo diverso anche a come definire la psicosi. Io non penso che la psicosi esista. Non ci sono differenze categoriali tra le persone che hanno un'esperienza psicotica e persone che non hanno un'esperienza psicotica. Ma credo che sia una forma psicologica, una forma psicologica, molto embodied psicologica di dealare con una situazione molto pesante e stressante. Quelli che sono i sintomi psicotici sono non tanti sintomi di una malattia, ma qua uso il termine di embodied mind, mente incarnata. A noi italiani di formazione culturale cattolica, questo probabilmente richiama dei concetti che possono in parte fuorviarci. Comunque quello che dice i sintomi psicotici sono le strategie della nostra mente incarnata per sopravvivere a esperienze inusuali, esperienze molto difficili. Per esempio persone che incominciano a udire voci, il problema non è in sé udire le voci. Il problema è il tipo di strategie per sopravvivere a questa esperienza molto difficile che la persona crea. Non è qualcosa che succede nel cervello e basta. E quindi se pensassimo a quello dovremmo medicare e curare il cervello. Il problema è che persone con esperienze di questo tipo iniziano a isolarsi, a porsi a distanza dagli altri e... E che cosa è l'ultima parte? Iniziano a isolarsi con queste esperienze molto difficili che hanno. Ok. E a rimanere solo con le loro esperienze difficili. E in queste situazioni creano delle strategie di sopravvivenza alquanto originali. E nel mio modo di vedere questo è quello con cui ci confrontiamo quando incontriamo una persona in preda a un'esperienza psicotica. Strategie psicologiche per sopravvivere. Non abbiamo a che fare con dei sintomi, non con le allucinazioni. Quando ci incontriamo con una persona che ha da tanto tempo esperienza di questi problemi... Non mi viene da pensare che abbiamo a che fare con un aggravamento, un approfondimento dei problemi. Ma penso che è un signore di fallimento nei trattamenti. Penso che abbiamo a che fare con un segno di fallimento dei trattamenti utilizzati. Che non hanno funzionato e quindi la persona si isola e crea le sue strategie bizzarre e originali di sopravvivenza. Questi fallimenti nel trattamento originano da... fondamentalmente hanno due origini. Il nostro sistema di cura di solito non garantisce che possiamo incontrare la persona in crisi immediatamente. Possono passare mesi o anni durante i quali la persona rimane isolata e crea queste strategie personali e bizzarre di sopravvivenza. E uno dei risultati importanti di questo approccio nella Finlandia del Nord e nella Lapponia è stato che la durata del periodo di psicosi non trattata, la DUP, è scesa a tre settimane. E questo cambia un po' le carte in tavola. È diverso intervenire con una persona che è alle prese con un'esperienza psicotica da tre settimane o da qualche anno. La seconda origine dei problemi e dei fallimenti terapeutici è nella non adeguata comprensione dei problemi della vita umana. E secondo me deriva dall'idea riduzionistica che possiamo semplificare la vita umana a modalità di funzionamento del cervello. O che possiamo ridurre i problemi di salute mentale a cambiamenti strutturali del funzionamento del cervello. E dobbiamo invece cercare di considerare che tutto è collegato all'interazione con gli altri. Queste relazioni con gli altri riguardano la nostra rete sociale, le relazioni con gli altri. Il dialogo aperto ovviamente è solo una delle possibilità di prendere in esame questo modo di considerare la vita umana. E ci interessa guardare alla completezza dell'essere umano nell'insieme delle sue relazioni sociali. Non è un trattamento dei sintomi, è un incontro con la vita intera. Siamo arrivati a quest'idea dopo aver cercato per un po' di applicare un approccio di terapia familiare. E abbiamo scoperto che questo non funzionava troppo bene. Perché erano poche le famiglie che potevano partecipare a questo tipo di trattamento. E nel 1984 abbiamo incominciato a sentire dell'idea di trattamenti di incontri dialogici aperti nata dal team del professor Alanen. E quando abbiamo provato a utilizzarla abbiamo detto questa è la strada. Di smetterla, di fare riunioni d'equipe per progettare il trattamento da fare con il paziente X. Di smetterla di avere un incontro individuale al momento in cui il paziente arrivava in ospedale con un paziente incontro a un solo operatore, ma fare incontri che coinvolgevano più operatori e dall'altro lato anche la rete familiare del paziente. Quindi abbiamo iniziato a invitare i familiari a questi incontri, ma non dicendogli venite a un incontro di terapia familiare. E man mano che abbiamo utilizzato quest'idea ci siamo resi conto progressivamente che era un'idea nuova che ci confondeva anche un po'. E siamo arrivati a due conclusioni. La prima conclusione è stata che abbiamo bisogno di valutare il sistema, di valutare quello che facciamo per capire meglio cosa stiamo facendo. E questa è una ricerca che abbiamo iniziato e che continuiamo a fare e che credo che vada continuata. Quindi il dialogo aperto è nato ed è cresciuto in questa relazione reciproca tra la pratica clinica e la ricerca. La seconda conclusione in cui siamo arrivati è stata che la formazione e il training abituale che abbiamo come operatori non è sufficiente per lavorare in questo modo. E quindi abbiamo iniziato a entrare nell'ordine di idea che ogni membro della staff facesse un training in psicoterapia di tre anni. Nel luogo in cui lavoriamo, non da un'altra parte. Facendo questo lavoro per alcuni anni abbiamo cambiato il sistema di cura. Invece di ospedalizzare il paziente, loro l'ha detto, lo spiego magari un po' meglio, sono partiti da una situazione di ospedalino psichiatrico. Invece di ricoverare il paziente abbiamo organizzato dei team mobili per intervenire sulla crisi. E l'idea è stata che questi team fossero raggiungibili da chiunque ne facesse richiesta e che quando arrivava una richiesta si facesse, il team intervenisse rapidamente a casa, preferenzialmente o anche in una situazione ambulatoriale. In una ricerca fatta dal professor Altonen tra il 94 e il 95, abbiamo cercato di analizzare, di definire quali erano gli ingredienti costitutivi di questo sistema di cura. e abbiamo trovato queste idee di base. Il sistema di cura ottimale è quello che garantisce uno aiuto immediato nella crisi. Possibilmente ce l'ho aggiunto io, lui non l'ha detto, entro 24 ore dalla chiamata. E' quello che è vero. Cosa è vero? Ma ho aggiunto 24 ore dalla chiamata. E' stato vero. E' 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 vero. Perché durante la crisi le persone non funzionano tanto razionalmente, funzionano con questi meccanismi di incarnazione delle emozioni. In due giorni si può perdere la possibilità di intervenire su delle emozioni che magari erano disponibili. Le persone che hanno reazioni psichotiche sono pronti a parlare della loro allucinazione nel primo giorno, ma non nel secondo o nel terzo giorno. La seconda idea è sempre di includere la famiglia. La seconda idea è di coinvolgere sempre la famiglia e in diversi casi anche altre componenti della rete sociale. E questo è quello che chiamiamo col termine di prospettiva di rete sociale. Il terzo punto è di essere flessibili riguardo al metodo che si utilizza. Questo è un approccio adattato al bisogno. Gli studi e le ricerche iniziali di Alanen parlavano di need adapted treatment, trattamento adattato al bisogno. Quindi cerchiamo di usare il metodo di cura che si adatta meglio a quel paziente e a quella famiglia. Quindi per alcuni può essere che ci vuole un intervento di psicoterapia individuale in aggiunta all'intervento sulla famiglia nella crisi. Qualcuno ha bisogno di farmaci, qualcuno ce la fa senza farmaci. Qualcuno ha bisogno di andare in ospedale per il rischio di suicidio, qualcuno ha bisogno di andare in ospedale per il rischio di suicidio, qualcuno ha bisogno di andare in ospedale per il rischio di suicidio, qualcuno se la cava bene a casa con il supporto di chi c'è lì. Cercare sempre di porsi la domanda di utilizzare il metodo che più si adatta a quella specifica situazione. Il quarto punto è quello sulla responsabilità. I professionisti devono prendersi la responsabilità del trattamento. Quindi gli operatori sono disponibili sempre. Il processo molto importante è che abbiamo adottato l'idea che... Scusate, potresti esprimere meglio l'operatore... ...all'intervento. Quindi c'è una, diciamo, contattabilità degli operatori sulle 24 ore. Se qualcuno notasse che dico delle cazzate clamorose, per favore lo dica. E cercare di utilizzare l'idea... Che quando qualcuno ci chiama, non possiamo dirgli, hai chiamato nel posto sbagliato, devi andare da un'altra parte. Quindi rispondere a qualsiasi richiesta di intervento dicendo... Questa è una cosa che mi ha colpito molto all'inizio. Hai chiamato nel posto giusto, vediamoci domani. Questa è una parte, è l'inizio di quella che è la continuità psicologica. Possiamo formare quindi dei team, un team che lavora con quella famiglia composta da operatori che provengono da servizi diversi. Magari uno che si occupa di dipendenze, c'è un operatore di quel servizio, un operatore dei servizi sociali. E questo team si fa carico dell'intero processo di trattamento per tutto il tempo necessario. E' importante essere consapevoli che questo non è solo un intervento sulla crisi. Questo team non interviene solo tra o quattro volte nell'acuzie. Ma invece resta lì per quanto tempo necessario. C'è e continua a lavorare con il paziente e con la famiglia per tutto il tempo necessario. E poi ci sono due ultimi punti che forse sono i più importanti. Perché l'idea che ha a che fare con queste cose pratiche è di aumentare la sicurezza per le persone che sono in crisi. E riuscire a tollerare una situazione in cui non ci sono ancora delle risposte pronte. Se riusciamo a mettere in piedi una situazione in cui creiamo una sicurezza di base sufficiente allora è possibile tollerare l'incertezza e lavorare per promuovere l'utilizzo delle risorse del paziente e della rete sociale, delle persone a lui vicine. Nella pratica quotidiana questo significa prendersela calma, non correre a conclusioni affrettate. E cercare sempre di apertamente vedere e chiedere punti di vista diversi. E' per questo l'idea di dialogo è così importante. Questo spiega perché l'idea di dialogo è così importante. Queste riunioni, questi incontri di cura sono per trovarsi insieme e cercare di capire cos'è successo. L'obiettivo degli incontri di cura non è quello di esplicitamente, aggiungo io, promuovere dei cambiamenti nel paziente o nella famiglia. O di rimuovere i sintomi. Gli operatori non arrivano lì con l'idea che devono convincere il paziente o la famiglia a fare qualche cambiamento. No. L'idea, l'obiettivo alla base degli incontri è quello di costruire, di ascoltare quello che le persone dicono e cercare di trovare delle parole, di costruire un linguaggio per quello che non ha ancora parole, per le esperienze che non hanno ancora parole. Scusate, noi professionisti non abbiamo parole migliori di quelle che possono tirar fuori i pazienti e i familiari. Per me, come terapeuta, è una faccenda che mi sfida. Perché il mio training come terapista familiare negli anni Ottanta era interamente focalizzato sull'idea che il nostro modo di relazionarsi, di intervenire con la famiglia, era finalizzato a produrre dei cambiamenti. Oppure, eravamo istruiti, formati a pensare che riformulare l'approccio ai problemi potesse cambiare gli schemi di comportamento della famiglia. E qua è l'opposto. Noi non siamo quelli responsabili dell'incontro. Sono i nostri clienti che si prendono cura dell'incontro. Questi incontri sono sempre aperti da domande aperte. La domanda aperta tipica è come volete utilizzare il tempo di questo incontro. Ma poi noi lo sappiamo benissimo che in certi meeting sarebbe il caso di affrontare certi problemi. Ma si parte sempre da qui. La domanda aperta è come volete utilizzare questo incontro. Se abbiamo delle cose che a tutti i costi dobbiamo dire, diciamole alla fine dell'incontro, non all'inizio. E in questo modo cerchiamo di fare quello che c'è scritto lì. Rispettare e accettare senza condizioni la voce del cliente. Cerchiamo di domandarci quali sono le idee che potrebbero aver contribuito a determinare i risultati positivi, che ci sono tutti i visti prima. Penso che ci sono quattro aspetti che si operano simultaneamente. Quando incontriamo una persona in crisi, incontriamo una persona che è alle prese con un'esperienza emotiva, e sono i migliori uniti per noi per aprire nuovi problemi, possibilità per discussione di nuovi temi. E questa situazione, questa specifica situazione, crea le migliori possibilità per introdurre nuovi argomenti, nuovi temi di cui parlare. Ma non è abbastanza. Devi anche incontrare le persone giuste per riuscirci. I componenti della tua famiglia, se hai una famiglia. Magari i tuoi compagni di scuola, se vai a scuola. O le persone con cui vivi nell'istituzione in cui sei temporaneamente ospitato. E il coinvolgimento di queste persone non è solo una volta, ma è per tutto il percorso del processo di trattamento. E il terzo punto è che nell'incontro ci concentriamo sul dialogo, cioè sul dare uno spazio e ad ascoltare ogni voce senza giudicare. E questo vuol dire che le persone riescono anche ad ascoltare qualcosa di più della loro stessa voce. E possono sperimentare l'ascolto delle voci di altri componenti della famiglia in un modo che prima non era avvenuto. Il quarto punto è che, cercando di lavorare in questo modo, quindi evitando il più possibile l'uso non necessario di farmaci, evitiamo quelli che sono gli effetti dannosi dei neurolettici. E quindi lasciamo alle persone più risorse psicologiche per poter ritornare a studiare o lavorare. Penso che in questo percorso di sviluppo del dialogo aperto abbiamo fatto un passaggio da qualcosa di metodologico riguardante la tecnica a qualcosa che riguarda più la vita umana, il senso della vita umana. E ovviamente nella vita umana non c'è valore più fondamentale dell'amore. E questo è quello che i componenti della famiglia ci riportano tante volte nell'intervista di follow-up che facciamo durante gli studi. Ci possono dire che è stato un processo molto doloroso. Ma che mi ha permesso di tornare ad amare e voler bene a mio figlio in un modo che non accadeva da 18 anni, da quando si era ammalato. Questo è un'idea molto curativa. David Petterson, che è l'autore di queste parole, è un linguista. Scrive, la vita è dialogica, la vita è dialogo. Grazie. Grazie. Grazie.